Musica Noi offriamo sia valigeria che peletteria, quindi borse. Cerchiamo di accontentare il nostro cliente per tutte le sue varie proposte ed esigenze. Per quanto riguarda la valigeria offriamo Roncato e Sansonite, ovviamente le aziende un po' più importanti sul mercato. Per quanto riguarda le borse abbiamo un vasto panorama, quindi partiamo da quelle un po' più sportive, quindi Mandarina Duck, Sansonite e Polo, fino a qualcosa di più stiloso come Love Moschino che accontenta veramente dalle più giovani alle meno giovani. Poi abbiamo Piero Guidi, abbiamo la Martina, abbiamo marchi come la Gaps, quindi marchi di tendenza e molto carini. Cerchiamo di ascoltare l'esigenza del cliente e esserne vicini. Quindi la frase, il sale nella moda, l'accessorio è proprio preciso per l'attività? Beh direi proprio di sì, anche perché l'accessorio comunque fa un pochettino la differenza su ogni outfit, che donne e non solo donne, anche ragazzi insomma sono molto attenti. GD Luxury si trova a Piedripa in via Velluti presso il centro commerciale Val di Chienti. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20 e 30, compresa la domenica e potete anche seguirci sulla nostra pagina Facebook. Il telefono è 0733 28 38 70. Grazie a tutti.